Tonica paprika, ispirata al personaggio di Mirka, intensa, frizzante, assolutamente piccante. Sono assolutamente contenta di questa collaborazione con Baladen, vedere un'etichetta con il mio disegno su una bibita Baladen, per me è fantastico. Siamo partiti con la distillazione della paprika, creando una bibita totalmente innovativa sulla base della nostra tonica. Grazie per la visione!